bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video è molto tempo che non faccio video perché volevo portarvi uno adesso con tanti minerali ok cominciamo dal primo questa è un geode di agata è molto particolare mi piace perché ha questa bella tonalità di colori tra cui bianco grigio e marroncino e anche marrone scuro ragazzi non so cosa sia questa l'ho notata subito appena l'ho comprato credo sia una patina cioè è una patina con dei buchetti non so cosa sia scrivetelo se fa parte dell'agata ragazzi queste verdelite levigata assomiglia molto alla giada infatti credo che si potrebbe confondere ha un bel colore verde acqua che mi piace moltissimo molto particolare e infatti mi piace molto questa è la mia preferita è molto particolare e molto bella molto particolare perché è un fossile vedete questi queste forme contornate di bianco sono lumache lumache fossilizzate lumache di che si sono accumulati sul fondale così si è che creato questo minerale non mi ricordo se ho detto il nome comunque è è agata turritella ragazzi questo è il rame è molto bello e mi è piaciuto averlo in collezione infatti in collezione ho oro rame e argento comprato a berlino l'argento molto bello ragazzi questo è selenite non so se vi ricordate ma anche io ho trovato un esemplare di selenite in sicilia per me era più bello di questo però scrivete nei commenti se anche per voi era più bello qua è una parte levigata ma comunque mi piace molto ragazzi questa è tormalina non so se mi sbaglio perché la tormalina non è ferrosa magari manco questa pietra è ferrosa però mi sbaglio credo di essermi sbagliato però questa è ruggine e ho notato subito questo credo sia quarzo comunque molto particolare questa è goetite questa è sicuramente un minerale ferrosa è molto bello soprattutto questa parte qua della ruggine e somiglia alle matite direi che si può scambiare per le matite questa è vanadinite ve l'ho fatto vedere alla fiera ai minerali mi sembra il 3 dicembre è molto bella perché si vede bene ha dei cristalli marroncini molto piccoli mi ingrandisco un po l'immagine ecco è molto bella guardate qua fanno un effetto molto particolare se li vedete guardate sono molto belli qua dietro invece anche un po di cristalli ci sono e queste cose nere ok siamo arrivati agli acquisti di natale questo è un quattroialino è trasparentissimo se vedete si riesce a vedere le cose dietro è molto bello metto un attimo qua vedete riesce a vedere insomma tutto guardate molto trasparente mi è piaciuto davvero molto perché un quattroialino così trasparente non l'ho mai trovato non l'ho mai avuto in collezione insomma molto bello ok ragazzi passiamo a quello più bello ragazzi non vi dico il nome ve lo dirò nel prossimo video e però se voi riuscite a indovinarlo dirò chi l'ha indovinato e lo saluterò e se nessuno ci riesce comunque lo dirò nel prossimo video ragazzi è questo verde verde acqua molto scuro ha dei cristalli ricoperti di verde come vedete e poi sono praticamente verde scurissimo è bellissimo è bellissimo è stato il più costoso e poi